Completata da parte dell'Aslo di Salerno la procedura per l'assunzione di 14 diabetologi in servizio dalla scorsa settimana. Inizialmente il concorso era stato bandito per nove posti, ma nell'ottica del rafforzamento della rete diabetologica aziendale, la Direzione Generale ha ritenuto opportuno aumentare a 14 il numero degli assunti e così i nuovi medici, che opereranno su 38 ore settimanali, risponderanno al meglio alle esigenze dei pazienti di tutto il territorio provinciale che si estende da Scafati fino a Sapri. Stiamo dando seguito alla programmazione che avevamo impostato, ha dichiarato il Direttore Generale dell'Aslo, l'ingegner Gennaro Sosto. Le assunzioni fanno parte di una strategia complessiva per dare le migliori risposte ad una delle patologie a più alta prevalenza sul territorio nazionale. In arrivo, inoltre, anche le linee guida della Regione Campania per la prescrizione di sensori che permetteranno ai medici diabetologi di prescriverli a basso costo. A questo proposito, nelle unità operative complesse di medicina degli ospedali, i camici bianchi potranno disporre i vari piani terapeutici solo per 30 giorni successivi alle dimissioni ospedaliere. Poi il paziente verrà indirizzato verso i centri diabetologici territoriali rientranti nella rete aziendale che vede in qualità di responsabile la dottoressa Pachimemoli per lo scarico e l'inserimento dati nella cartella informatizzata, la valutazione della terapia e infine l'ingresso nel percorso diagnostico-terapeutico assistenziale. Grazie. 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 Grazie.